Viaggiare rende le nostre vite più ricche. Ma viaggiando possiamo rendere più ricche anche le vite degli altri. Viaggiando impariamo. Condividiamo. E cambiamo il mondo intorno a noi. Ma possiamo anche decidere come cambiarlo. E cambiamo il mondo intorno a noi. Possiamo piantare un albero che darà i suoi frutti a chi ne ha bisogno. Possiamo sostenere la cultura che ci insegna quello che siamo e siamo stati. Ma anche le culture. Perché imparando gli uni dagli altri possiamo migliorarci. Non so bene cosa dire. Hai già detto quello che avrei dovuto dire io? Possiamo salvaguardare le specie che abitano con noi questo pianeta. E contribuiscono a renderlo ricco, speciale e unico. Noi viaggiatori abbiamo il potere di rendere il mondo un posto migliore. Più magico, più grandioso e più giusto. Quindi viaggiamo e usiamo questo potere. C'è una gabbia con dei pavoni perché sono degli animali crissacri. No 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 sta oscillando. Non prendetevi un piccolo, sta oscillando. E in teoria dovrebbe esserci tra poco la prima. Ragazzi abbiamo un nuovo esercito. Siamo pronti a conquistare il mondo. Ciao Italia. Ciao Italia. Ciao Italia. Allora stiamo per accedere ad un'altra grotta. E mi hanno messo sul kayak perché così posso portare la telecamera. Sono una principessa. Benvenuti all'oggi. Dobbiamo scostare le camere? Ha un dedo in mano. E quindi per tanto tempo non hanno saputo dove metterlo. Non io, cioè, ma poi sai. Iscriviti al canale. Iscriviti al canale. Più o meno. Più o meno. Più o meno. Più o meno. Grazie a tutti.